Solo un anno fa era in Puglia a curarsi le ferite dopo la fine del matrimonio con Simone Gian Lorenzi, accanto a lei per 15 anni. Ad aiutarla in quel momento c'era l'amica Anna Pecchinelli, che non l'ha lasciata un attimo e ancora oggi la sostiene. Stefania Orlando, anche grazie a lei, è riuscita a rialzarsi ed è pronta a voltare pagina, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Anzi, non è detto che non l'abbia già fatto. In un intervista rilasciata al settimanale chi dà le due amiche, le pettinando, come le chiamano i loro fan, è Anna Pecchinelli a tradirla, quando confessa di essere single, il mio cuore è libero. Il mio almeno, è libero. A quel punto Stefania Orlando, incalzata dalle domande a raffica di Alessio Poeta, per prenderla in castagna, prova a recuperare in calcio d'angolo, il mio cuore piano piano si sta riprendendo. Il tempo, alla fine, ha avuto la meglio. E le dirò di più, continuo ancora a credere nell'amore. Insomma, nessuna conferma ma neanche nessuna smentita. E mentre la showgirl fa la vaga, qualcuno sui social spiffera, c'è un video che ha postato giorni fa la Melillo in un bar a Fregene dove si vede la Orlando dietro in dolce compagnia, mano nella mano a un uomo. Se così fosse, felice per lei. Nessun indizio sull'identità del presunto compagno, ma quella nuova luce sul volto non lascia spazio a dubbi. Real Video vi ringrazia per averci accompagnato fino alla fine. Per rimanere sempre aggiornati sui nostri prossimi video, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche. Grazie per il vostro supporto.